vista a tevere un po' di brezza e aspettiamo la nostra campionessa cate eccomi qua piacere mio campionessa tutto bene benissimo ti stavo aspettando per navigare prendere per salpare ma navigare dove sul teveri non si può evitato ma no lasciamolo alle cannottieri noi dobbiamo andare in palestra dobbiamo diventare fuori dobbiamo allenare in palestra we can do it vengo con te campionessa olimpica quanto è bello anche tu sei campionessa olimpica ma quanto è vero hai ragione però quanto è bello riprovarci è bello perché vuol dire che vuoi andare oltre vuol dire che non ti senti arrivato vuoi andare oltre vuoi superare i limiti anche perché tu hai iniziato tardissimo sì e questo dimostra che lo sport si inizia da piccoli ma si può scoprire da grandi e inseguire comunque sogni giganti sì sono d'accordo per esempio anche io però adesso andiamo in palestra andiamo dai andiamo a lavorare dottoressa banti io già sento odore di capito inseguire i successi qua dentro la fatica il sudore certo e vedo qualche attrezzino che potrebbe ricordarmi una barca o sbaglio esatto questo è il listatore l'abbiamo progettato noi già allo scorso quadriennio prima di tokyo ma oggi che cosa mi fai fare ti faccio simulare di essare la vela vuoi provare sono qua a posta però però visto che non siamo in piscina pensiamo quanti sei carine delicato delicate bisogna mettersi uguali allora si mettiamo in posizione di affondo è più stabile sulla barca che vuola perché sai che vuole la barca lo so lo so voi volate non toccate più l'acqua no no vogliamo prendi una drizza con la mano destra ok e cominci e questo è il movimento a tirare su ok è meglio bracciate lunghe usando tutto il dorso ok perciò il dorsale il dorsale sì se no si gonfie l'ambraccio e esplodi dopo 30 secondi vai provo vai tu 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 più veloce 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 chi sta cercando di limitarci a casa che cosa potrebbe fare beh secondo me se vuole provare a questo movimento a sfruttare comunque tutti i muscoli ok esatto quindi dobbiamo dire comunque di mettersi in posizione che possono essere un ginocchio o in ginocchio oppure in squat o in squat e cercare magari di avere una cima, una corda, un elastico non lo so dimmi tu esatto bravissimo e trainare da una cassa di acqua a una pietra sulla spiaggia un copertone secondo me conviene anche legare come dice il proprio compagno il proprio marito fa una cosa vieni qua vieni che ti trascino esatto va bene potrebbe essere anche in gioco con i bambini gli metti una cintura intorno con una corda allora si mette una cintura e tu li tiri sai quanto si diverte e già mi vedo tutte le mamme trascinate dei bambini facciamo il gioco inverso oppure alla contrario però una cosa è certa you can do it grazie a tutti